ragazzi buongiorno e benvenuti a milano io sono qui ospite di canon per un evento dal titolo la famiglia si allarga e avendo seguito un po i rumor se facendo due più due dovrebbe essere la presentazione ufficiale delle nuove aps c mirrorless canon r7 e canon r10 è un evento in cui si scatterà anche con delle modelle sono super curioso quindi andiamo iniziamo intanto con un piccolo mangio dopo vediamo che cos'è presentazione finita adesso si scatta la prima macchina che proviamo è la piccolina appena arrivata la r10 devo dire estremamente compatta e leggera primo set qua alle mie spalle con della food photography vediamo un po come si comporta e l'esperienza continua qui all'aperto con dei ballerini dei danzatori di capoeira sempre con la r10 la piccolina che comunque fa 15 fotogrammi al secondo con l'otturatore meccanico e adesso la mettiamo alla prova bene ragazzi esperienze di scatto terminate ho avuto anche tempo di mangiare qualcosa offerto gentilmente da canon e adesso me ne torno a caso al tempo di raccogliere un po le idee e poi ci vediamo in studio per parlare un pochino più nel dettaglio senza ovviamente fare una recensione ma giusto con le prime impressioni su questa r7 e su questa r10 e dopo una bella doccia rinfrescante ragazzi eccoci qua in studio pronti per commentare questo primo contatto con le due nuove mirrorless aps-c di canon eos r7 ed eos r10 ma prima di tutto fatemi ringraziare intanto canon per l'ospitalità e per il gadget alla fine era un caricabatterie wireless che è fatto in legno a sopra la scritta la faccio vedere ecco qua la famiglia cresce e molto carino lo utilizzerò di sicuro e soprattutto maurizio che conoscerete qua su youtube per il suo canale saggiamente che mi ha dato una grossa grossa mano con le riprese di b roll queste due nuove macchine che ho potuto provare in anteprima hanno tantissime cose in comune alcune tra l'altro mutuate dalle sorelle maggiori full frame a cominciare dall'attacco per gli obiettivi che è l'rf e su un sensore così tra virgolette piccolo come la psc sembra davvero davvero enorme ma in più c'è anche il processore d'immagine digic x e tutti gli algoritmi di autofocus presi direttamente da quella che è l'attuale top di gamma mirrorless full frame di canon la eos r3 entrambe le macchine sono molto leggere e compatte con r10 che pesa appena 429 grammi con batteria e scheda di memoria e r7 che è un pelo più grande e pesante e arriva a poco più di 600 grammi sempre con batteria e scheda di memoria montate tutte e due le macchine hanno poi dei sensori nuovi o almeno così ci ha detto canon sono stati rinnovati per quanto riguarda le micro lenti e i circuiti che sono rispettivamente di 24,2 megapixel per quanto riguarda r10 e di 34,5 megapixel per r7 entrambe hanno una raffica davvero buona anzi direi eccellente specialmente rapportata sulla r10 di 15 scatti al secondo con l'otturatore meccanico che salgono rispettivamente a 23 con l'otturatore elettronico per r10 e ben 30 fotogrammi al secondo 30 scatti al secondo per r7 continuando con similitudini e differenze r10 ha un singolo slot per la scheda di memoria mentre r7 ne ha due entrambe le macchine hanno un mirino elettronico da 2,6 milioni di punti mentre per quanto riguarda il display posteriore che è orientabile su entrambe le macchine per r10 abbiamo una risoluzione da circa un milione di punti che sale invece a 1,6 milioni di punti sulla r7 mi sono dimenticato prima di dirvi che r7 ha anche il sensore stabilizzato con stabilizzazione fino a 8 stop che non è per niente male passando infine con questo giro veloce sulle specifiche al lato video entrambe hanno il 4k senza alcun limite sul tempo di registrazione che fino al 30p è in oversampling parliamo oversampling dal 6k al 4k per la r10 e dal 7k al 4k per la r7 e raggiungono entrambe il 4k 60p ma in questo caso è solo la r7 a farlo senza alcun crop aggiuntivo quindi tanti punti di contatto tra queste due fotocamere tante funzioni anche molto evolute ma anche alcune differenze significative che fanno proprio capire il tipo di utente a cui sono rivolte per cui sono state pensate queste due fotocamere comunque oltre alle fotocamere hanno anche annunciato due nuovi obiettivi zoom per apsc che saranno poi venduti in kit con questi due corpi macchina e sono poi quelli che io ho utilizzato nelle mie varie prove in questo primo contatto abbiamo da un lato il 1845 f 4.5 6.3 is stm e dall'altro il 18150 f 3.5 6.3 is stm entrambe le ottiche sono molto compatte stabilizzate e con un autofocus molto efficace e silenzioso e devo dire anche con una qualità fotografica tutto sommato molto buona per essere appunto delle ottiche che saranno vendute in kit se da un lato il 18150 complessivamente ci sta come obiettivo zoom tutto fare quello che mi ha lasciato un pochino più perplesso è il 1845 perché se lo andiamo a confrontare con il classico obiettivo da kit per le reflex entry level intanto perdiamo 10 mm sul lato lungo dato che di solito avevamo un 1855 mentre qui abbiamo un 1845 e dall'altro lato si va a perdere anche in luminosità dato che il diaframma su questo nuovo obiettivo è appunto un f 4.5 6.3 che è abbastanza buio insomma qui secondo me canon poteva fare qualcosina di meglio passando all'esperienza d'uso in questo primo contatto ho potuto intanto apprezzare l'ottima ergonomia di entrambi i modelli si tengono entrambe molto bene in mano anche la r10 la piccolina ha un grip molto confortevole chiaramente la r7 è un pelo avvantaggiata dal fatto di essere un pochino più grande e tutti i comandi sono facili da raggiungere entrambe hanno il joystick per spostare i punti di messa a fuoco cosa molto interessante specialmente sulla entry level r10 e qui abbiamo però una differenza lato ergonomico su r7 dato che su questo corpo macchina il joystick per spostare i punti di messa a fuoco è combinato con una delle rotelle per cambiare le impostazioni e questa è una cosa che almeno in questo primo contatto non mi ha convinto fino in fondo nel senso che è vero che è comodo averle insieme perché col pollice senza fare grossi movimenti si può passare dallo spostare il punto di messa a fuoco al cambiare le impostazioni in un attimo ma proprio perché sono così vicini e combinati mi è capitato più volte durante le esperienze di scatto di andare a toccare involontariamente la rotella delle impostazioni quando in realtà volevo solo cambiare la posizione del punto di messa a fuoco e l'altra cosa che non mi ha convinto fino in fondo lato ergonomia è il pulsante di accensione della r7 che è combinato nel senso che ha tre posizioni spenta accesa e modalità video e mi sono trovato più volte a accendere la fotocamera dopo averla spenta e ritrovarme la proprio in modalità video perché senza guardare non ero stato attento a controllare che il pulsante di accensione si fermasse su on e non proseguisse la sua corsa verso la modalità video ecco qui avrei preferito vedere una soluzione come hanno adottato anche su r10 che ha l'interruttore di accensione classico acceso spento e poi si può attivare la modalità video usando la ghiera presente sulla parte superiore ma la cosa che mi ha stupito maggiormente di entrambe le fotocamere è stata l'autofocus che è veramente eccezionale in particolare quando ho potuto provare la r10 con gli scatti ai danzatori di capoeira beh l'unica cosa che ho dovuto fare è stata semplicemente premere il pulsante di scatto tenere l'inquadratura e lasciare andare la raffica a 15 scatti al secondo e la fotocamera diciamo ha fatto il resto facendomi portare a casa tutti gli scatti perfettamente a fuoco anche con dei soggetti in rapido movimento e se pensiamo a quello che è la r10 quindi una fotocamera entry level rispetto a quello che si poteva fare con una reflex entry level anche solo 1 2 3 anni fa ma questo è un passo avanti enorme e proprio grazie a questo autofocus avanzato e nel mio caso devo dire anche grazie allo stabilizzatore presente sul sensore della r7 si possono fare cose davvero interessanti come ad esempio il focus stacking direttamente in camera io l'ho potuto provare a mano libera non avevo con me un treppiede e il risultato è stato davvero strabiliante perché la macchina è riuscita a fare una quarantina di scatti in sequenza cambiando in automatico la messa a fuoco e poi me li ha combinati sempre in automatico in uno scatto finito in cui tutto il soggetto era perfettamente nitido e la cosa interessante è che comunque sulla scheda di memoria la fotocamera salva sia gli scatti singoli ma anche lo scatto finito quindi se poi uno vuole fare un'ulteriore elaborazione in post produzione beh è liberissimo di farlo lato costi e disponibilità ci hanno detto che queste fotocamere saranno disponibili a partire da luglio con un prezzo e qua vado con gli appunti perché altrimenti a memoria non me li potrei ma ricordare solo corpo per quanto riguarda r7 di 1569 euro e di 1029 euro per r10 ma saranno vendute anche in kit in questo caso la r7 in kit solo con il 18150 a 1979 euro mentre su r10 saranno disponibili entrambi gli obiettivi quindi in kit con il 1845 a 1149 euro e in kit con il 18150 a 1439 euro oltretutto al lancio entrambe le macchine avranno in dotazione anche l'adattatore efrf con cui poter utilizzare tutte le ottiche appunto con attacco e f ed f s del mondo reflex canon anche su queste due nuove macchine considerate le prestazioni offerte sono prezzi che secondo me tutto sommato ci stanno e ovviamente e dico anche purtroppo dobbiamo tenere conto di tutto quello che riguarda gli aumenti che ci sono stati in questi ultimi due anni per quanto riguarda il settore dell'elettronica di consumo a cominciare dalla scarsità di materie prime passando anche per la logistica giusto per darvi un dato il rappresentante di canon ci ha detto che rispetto a due anni fa il costo per spedire un container di merce via nave è salito di quattro o cinque volte a seconda delle rotte sommate questo anche all'inflazione galoppante e a tutto il resto ed ecco che si arriva a questi prezzi che sono un po più alti di quelli a cui eravamo abituati per corpi macchina di questa fascia comunque prima di salutarci voglio anche rispondere alla domanda delle domande che so già alcuni di voi mi faranno nei commenti ma con l'uscita di queste due nuove fotocamere mirrorless ap sc con attacco rf che cosa succederà al sistema eos m le mirrorless ap sc che già canon aveva presenti sul mercato allora la risposta ufficiale è stata che a parte la m6 mark 2 che è stata ritirata dal mercato le altre fotocamere della linea eos m continueranno a restare tranquillamente in vendita così come gli obiettivi questo perché stando a quanto mi hanno detto sono comunque destinate a un tipo di pubblico differente poi ovviamente vedranno come andrà il mercato all'uscita di queste nuove fotocamere e prenderanno le loro decisioni faranno le loro considerazioni comunque questo è quello che al momento mi è stato riferito detto ciò io vi ringrazio per aver visto il video fino a qui supportatelo con un bel mi piace fatemi sapere che cosa ne pensate in un commento qua sotto e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao